Hi, sono John Peter Sloan, sono qua a Roma, in Termini, nella libreria non solo più grande dell'Italia, e questa con le 100.000 librerie è una cosa grande, ma dell'Europa, e forse al mondo, perché dobbiamo ancora informarci. Quindi è un onore, perché io ogni volta che vengo a Termini, vengo qua a Bordi a fare un po' figo, a vedere i libri, a coprire i libri di quelli che non mi piacciono, vabbè, questa è un'altra storia. Comunque, Welcome to Italy, la puoi prendere a Bordi, che è la migliore libreria, che è di Roma, mi dispiace. Oh, le 6 sono le librerie a Ferterelli, mettila dopo le 6, questo video.